Commentiamo la Luca questa partita, la beffa grande al 94esimo, però nel complesso, diceva anche Brosco, non è stata una delle migliori gare del Pescara. No, no, assolutamente, siamo molto dispiaciuti perché nonostante tutte le difficoltà che abbiamo incontrato oggi e in questo periodo, stavamo vincendo 1-0 e direi anche meritatamente. È stato un errore sull'ultimo calcio d'angolo, ma avremmo potuto prendere anche qualche gol prima, soprattutto anche l'espulsione ci ha messo un po' in difficoltà. Allora, non siamo più quelli di inizio anno, però stiamo cercando di ricompattarci e ritrovare quell'entusiasmo, quella freschezza, quella voglia di divertirci che avevamo all'inizio. È chiaro che adesso è tutto diverso perché le partite sono sempre meno, le squadre ci aspettano, c'è un po' più di pressione. Come dicevo prima, nessuno di noi è felice a pareggiare con il Giuliano in casa o avere nelle ultime partite questo rendimento così discontinuo. Si sono viste delle bellissime cose e altre più brutte, cerchiamo di lavorare per eliminare quelle più negative. Allora Luca, hai detto non siamo più brillanti come inizio anno, tu che hai tantissima esperienza, perché secondo te? Questa è una domanda da 100 milioni di dollari, non lo so, può essere un momento della stagione, può essere che gli avversari ci aspettano sicuramente molto di più rispetto a prima e quindi negli spazi più stretti facciamo un po' fatica, a volte anche un po' di fortuna, oppure gli avversari che ti studiano. Ci sono tante variabili, noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare punti perché, ripeto, siamo comunque ancora terzi in classifica quindi abbiamo avuto la fortuna di avere tanti punti di vantaggio e questi errori che stiamo facendo non ci stanno costando ancora cari perché avevamo tanti punti. Però i bonus finiscono. I bonus prima o poi finiscono e quindi dobbiamo, soprattutto poi ai playoff, se ci si arriva in questa condizione sarà molto difficile quindi dobbiamo cercare di capire cosa non funziona, perché non è semplice capire cosa non funziona e metterlo a posto e riprendere il cammino. A volte anche quando vinci le partite non sai perché le vinci, no? Vinci le partite perché tutto funziona bene. Adesso stiamo perdendo un po' di punti perché qualcosa ci manca. Ognuno deve pensare a fare anche un esame di coscienza, a dire dove posso migliorare, cosa posso fare, dove ho sbagliato e provare la prossima partita a fare punti. Mi chiedo l'ultima cosa Luca, se ne parla da almeno un paio di settimane sulla posizione in campo con il nuovo modulo eventuale a due di Luca Mora, centrocampista centrale, sottopunta, dici tu, come preferisci? Ma guarda, sinceramente adesso noi abbiamo fatto benissimo con 4-3-3 ma anche le partite che abbiamo giocato 4-2-3-1 non è che sono due moduli proprio così diversi, cioè comunque sono sempre tre centrocampisti col vertice alto e vertice basso, insomma, soprattutto nel modo in cui giocavamo anche noi prima col 4-3-3, a volte impostavamo a due, a volte una mezzala si metteva fra le linee oppure si allargava, quindi penso che si tratti solo di trovare gli equilibri. Oggi nel secondo tempo abbiamo giocato 4-2-3-1, abbiamo fatto forse meglio che con 4-3-3, altre volte il contrario. Ci sono delle partite in cui un modulo può venire meglio rispetto ad un altro, però non credo che ci sia troppa differenza, ognuno può interpretare ovviamente il ruolo con le sue caratteristiche, se il trequartista lo fa Lescano, Cuppone o io, ognuno ha le sue caratteristiche, quindi magari io sono un po' più centrocampista, o Rafia, siamo più centrocampisti, loro sono più attaccanti, però ecco, credo che in campo si va in 11 e se tutti i 11 vanno con un'idea giusta si può fare bene con tutti i moduli.